Questa è una notizia che un genitore non vorrebbe mai sentire. Affidare i propri figli ad una scuola vuol dire prima di tutto sperare che vengano accuditi, trattati con rispetto e, nella migliore delle ipotesi, con amore. Purtroppo, però, 11 piccoli alunni di una scuola di cannole, vicino Maglie, nel Salento, di tutto ciò non hanno mai usufruito, anzi, hanno subito maltrattamenti. Sono stati rinchiusi in un armadio, costretti persino a sedere su delle sedie su cui erano state messe delle puntine da disegno. I fatti su cui indaga la procura di Lecce risalirebbero due anni fa e sono emersi alle cronache durante l'incidente probatorio disposto lo scorso ottobre dal GIP Simona Panzera e per i quali ora risultano indagati il preside della struttura e una maestra. Ai due, il PM Angela Rotondano ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini. La donna, che ora lavora in un altro paese, deve rispondere di abuso dei mezzi di correzione e maltrattamento di minori. Il preside, invece, per omesta denuncia, avendo sconsigliato ai genitori dei piccoli, dopo le segnalazioni ricevute, di presentare denunce ai carabinieri. I piccoli hanno riportato traumi e sindrome da stress.